Che cosa vuole da me? Io non voglio niente. Devo chiederti un favore, roba da poco. Ma che posso fare per lei? Dicono che domani sarà... No, no, domani non succederà niente. Io sono pronta a lasciare questa prigione stanotte. E anche tu. Vedi, quattro uomini stanno costruendo una forca per impiccarmi. Sono amici miei. Ho pensato di lasciare la prigione in modo molto più divertente. Ma che dovrei fare io? Prima che sorghi il sole, getteranno delle torce accese in questo cortile. Allora tu comincerai a urlare di spavento. Le tue grida creeranno molta confusione. E in quel momento lungo il muro caleranno delle corde. E noi prenderemo il volo insieme. Perché hai scelto proprio me? Perché... Hai un'aria così innocente. Sei solo una ladroncola. Hai un'aria così attrazione. Hai un'aria così attrazione.